E arriviamo al punto numero 7 della nostra mini guida, che cos'è il MOS, che cos'è il mini one stop shop? Si tratta di un sistema introdotto e reso disponibile all'interno dei paesi aderenti all'Unione Europea tramite il quale è possibile gestire i risvolti IVA dei paesi in cui si vende. Siamo, attenzione, nell'ambito dell'e-commerce diretto, quindi infomarketing, quindi stiamo vendendo infoprodotti, stiamo vendendo corsi online, stiamo vendendo guide, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che se vendiamo, qual è la regola generale nel B2C, è che l'IVA è territorialmente competente nel paese dell'acquirente. Come faccio ad applicare io che sto vendendo l'IVA in quel paese? Devo identificarmi ai fini IVA in quel paese, quindi tecnicamente dovrei aprire un numero di partita IVA in quel paese. Il MOS ci dà la possibilità di evitare di identificarci, se siamo fornitori di paesi UE in ciascuno di questi paesi, e ci dice iscrivetevi al MOS. Il MOS è un sistema sviluppato e amministrato presso i portali delle amministrazioni finanziarie locali, che ti permettono, identificandoti in un unico paese, di avere automaticamente accesso all'identificazione IVA di tutti quanti gli altri paesi. Quindi tu da un'unica posizione fiscale puoi gestire i versamenti, puoi aprire la partita IVA di quel paese, puoi gestire i versamenti IVA mensili o trimestrali a seconda del flusso, a seconda del fatturato, e puoi presentare le dichiarazioni IVA. Adesso se sei un'azienda con sede legale nell'Unione Europea, allora devi iscriverti al MOS del paese in cui hai costituito la società. Se sei una società extra-UE, quindi che ha sede fuori dal paese, fuori dall'Unione Europea, invece dovresti identificarti ai fini IVA e quindi iscriverti al MOS del paese in cui hai una stabile organizzazione. Il MOS, lo vedremo più avanti, in realtà oggi si applica fino al 31-12-2020 per l'e-commerce diretto, da domani sarà disponibile anche per l'e-commerce in diretto. Punto numero 8 della nostra mini guida, quali regole si applicano alle società di e-commerce che hanno sede fuori dall'Unione Europea e vendono benefici a consumatori europei? Caso classico, tra l'altro uno dei più diffusi in rete di quest'ultimo anno. Ho una società in UK, UK Company Limited, la considero extra-UE alla luce della Brexit, compro dalla Cina perché mi occupo magari di dropshipping e vendo a consumatori e privati europei, per esempio ad un italiano. Quindi società UK Limited compra dalla Cina extra-UE e il bene non passa per il Regno Unito, ma arriva direttamente in Italia, dove il privato consumatore se la trova per posta spedito a casa. In questo caso in realtà l'IVA non è di competenza UK e la società UK non è neanche tenuta per legge ad aprire un numero di partita IVA in Italia. Quindi sembrerebbe un'operazione fuori, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. A ben vedere non è così. Qual è quello che molti dei miei colleghi si dimenticano di dire, italiani e non, è che esiste una cosa che si chiama IVA all'importazione. Quando il bene supera il confine italiano, ricordiamo che lo stiamo per esempio importando dalla Cina, quindi c'è comunque un'importazione, nonostante sia una triangolazione, l'IVA diventa competente in Italia e deve essere applicata. Quello che può succedere è che invece di arrivarvi il pacco a casa, vi arrivino i documenti della dogana che vi chiedono di liquidare quell'IVA che il fornitore UK non ha messo in fattura e non vi ha fatto versare. Quindi facciamo attenzione, i dazi doganali e anche l'applicazione dell'IVA dipendono dal valore del bene, però questo è un campo estremamente delicato che può evolvere in differenti maniere, quindi va fatta una pianificazione attenta su un caso del genere. Passiamo avanti, punto numero 9, come faccio a identificarmi? Se ho una società UE o extra UE e non voglio utilizzare il MOS, esistono delle società multiservice che vi permettono di evitare, o perlomeno che vi permettono di demandare l'intera gestione dell'IVA, quindi non avete voi necessità né di iscrivervi al MOS, né di identificarvi direttamente, né di eleggere un rappresentante fiscale nel paese di consumo dove state vendendo i vostri beni, perché esistono queste società multiservice, vi faccio due nomi su tutti, per esempio Clickbank vi offre questa opportunità, così come Teachable, se vi occupate di e-commerce non potete non conoscere queste due realtà, è possibile demandare dietro una piccola fia a loro l'intera gestione dell'IVA.